Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Deuter Air Contact Ultra da 50 più 5 litri, lo zaino ultralight di casa Deuter di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a vedere le caratteristiche di questo Deuter Air Contact Ultra. Come vi dicevo io la versione da 50 più 5 litri, esiste anche la versione da 45 più 5 denominata SL per un pubblico femminile. Nella mia versione maschile pesa 1,2 kg realizzato con un materiale ripstop 175D. Ed ora che abbiamo visto le caratteristiche vediamo i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale, qua troviamo la tecnologia Air Space Mesh di Deuter. Questa tecnologia fa sì che questo schienale pur essendo ergonomico sia molto traspirante. Nella gamma degli schienali ergonomici veramente questo è uno tra i più traspiranti che ho mai provato, ma proprio anche toccandolo si sente che all'interno di questo mesh passa tanta aria e vi assicuro la sudorazione è abbastanza contenuta, sempre parlando per uno schienale ergonomico. Io l'ho utilizzato in delle giornate abbastanza calde, comunque eravamo sui 28-29 gradi, vi assicuro sono stato veramente bene, quindi anche sforando di qualche grado di 30 si andrà comunque bene. La cosa che mi piace molto di questo zaino è che avendo uno schienale ergonomico il peso è molto vicino alla schiena. Questo ci aiuta molto a trasportare alti carichi, poi vediamo quanto, ma soprattutto fa sì che questo zaino sia molto molto bilanciato, davvero non ci sbilancia quasi mai. Ultima cosa per quanto riguarda lo schienale, questo è regolabile su diverse altezze tramite dei moschettoni messi all'interno del nostro schienale, quindi è aggiustabile anche su altezze di varie persone. Visto che vi parlavo di portata di chili, passiamo alla fascia lombare, qui troviamo lo stesso mesh con cui è fatto lo schienale sulla fascia lombare e anche qua lavora molto bene per quanto riguarda la traspirabilità. A livello di peso io sarei massimo sui 13 chili trasportabili, Deuter dice tra i 12 e i 15, secondo me 13 va già bene, altrimenti oltre si inizia a sentire male alle spalle, però in generale davvero come zaino, soprattutto per essere ultralight, ha un ottimo schienale e fascia lombare. Sempre sulla fascia lombare poi troviamo due tasche, una posta a destra e una a sinistra, sono forate per andare a diminuire un po' il peso, però lavorano bene, ci si può mettere dentro un bel po' di materiale. E per quanto riguarda la chiusura sulla parte anteriore, la clip funziona bene, purtroppo non è presente nessun tipo di chiusura per andare a evitare che sballonzoli il cordino davanti a noi, ma alla peggio possiamo infilarlo all'interno di queste due tasche e può andar bene. Diciamo che inserire un elastico sarebbe pesato, veramente poco i grammi, ma avrebbe aiutato molto. Infine per quanto riguarda gli spallacci, anche loro fatti dello stesso mesh, hanno una sezione diciamo normale, nella media non è né troppo grande né troppo piccola, comunque svolgono bene il proprio lavoro, non fanno male anche con tanti chili. Nella parte anteriore sullo spallaccio poi troviamo la solita chiusura pettorale col fischietto per andare a chiuderci e lo scaricare un po' di peso anche sul petto. In generale diciamo che anche gli spallacci vanno bene, nulla di eccezionale, ma lavorano bene. Infine parlando di tutta la parte anteriore di questo Deuter, c'è la tecnologia Active Fit. Questo aiuta veramente tanto nel muoversi, nonostante se abbia uno zaino così grosso, magari anche così pesante, davvero aiuta ad essere agili nei movimenti, nel potersi chinare, alzare le braccia. È comunque una tecnologia che si sente soprattutto quando magari si fanno dei sentieri così tanto agevoli, dove bisogna un po' districarsi tra le varie asperità. Passiamo ora a parlare di una delle due parti laterali. Vi dico già che sono simmetriche, quindi ne vediamo solamente una. Cosa troviamo? Troviamo una prima tasca dove andare a riporre la nostra borraccia. È una tasca abbastanza generosa, quindi ci può stare sia la borraccia più un qualcosa in più, diciamo che ci mette dentro anche i palli della palleria della tenda, ci sta dentro senza tanti problemi. Purtroppo la borraccia non riusciamo a prenderla da soli, ma dovremo farci aiutare o togliere lo zaino. E poi troviamo queste fettucce che corrono a z, diciamo, sull'altezza dello zaino, e ci aiutano a stringere, ad andare a comprimere la grandezza dello zaino se lo utilizziamo da mezzo vuoto. Mi piacciono molto queste fettucce, soprattutto messe con questa forma a z, perché con una fettuccia si riesce a fare tutto e tornano molto molto utili. Se volete diminuire ancora di più il peso dello zaino, potete anche toglierle completamente le fettucce e lasciarle a casa. Arrivando invece alla parte posteriore di questo Deuter, cosa troviamo? Beh, innanzitutto salta subito all'occhio questa grossa tasca a rete, dove si possono andare a riporre davvero tanti tanti oggetti. Io quando sono andato a provarli ho riposto nella parte bassa il mio kit medico, più la giacca nella parte superiore, quindi davvero è molto grossa, e soprattutto è anche una buona rete, perché nonostante l'abbia usata con tanto materiale, questa non si è ancora sfibrata, quindi sicuramente è anche buona da questo punto di vista. Come potete vedere non troviamo nessun tipo di apertura nella parte inferiore, infatti questo zaino è a sacca unica e qualsiasi cosa andrete a mettere nella parte bassa, poi dovrete svuotare completamente lo zaino per riuscire a riprenderla. Per trasportare i bastoncini abbiamo delle asole messe nella parte posteriore dove infilare la punta, e poi la parte superiore del manico va infilata nelle fettucce laterali che abbiamo visto, e in generale sulla parte anteriore troviamo diverse asole messe qua da Deuter per permetterci di portare materiale aggiuntivo con qualche fettuccia in più. Le fettucce naturalmente non sono date in dotazione, ma volendo potremmo portare nella parte esterna un matrassino o una tenda con quel materiale aggiuntivo grazie a questi passalacci che troviamo. Per quanto riguarda l'altro lato, come dicevo, è simmetrico a quello che vi ho già descritto, troviamo la rete per la borraccia, la fettuccia a zeta per andare a richiuderlo e basta. Passando alla parte superiore, all'apertura, qui troviamo un'apertura molto classica, con un semplice cancetto ad andare a tirare in modo tale da poter aprire lo zaino, qui troviamo anche la parte superiore dei più 5 litri che vi ho detto all'inizio durante l'iscrizione, e comunque lavora bene, molto classica, nulla da dire. Per quanto riguarda invece il cappuccio, innanzitutto è removibile per togliere ancora qualche grammo e troviamo una singola tasca posta nella parte superiore del cappuccio, molto ampia, davvero molto ampia, ci sono dentro davvero tanti tanti oggetti, però è singola, non ne troviamo un'altra nella parte interna. Infine, per quanto riguarda il comparto acqua, non è dato nessun reincopere in dotazione, anche se io vi consiglio comunque di acquistarne uno perché facendo trekking torna sempre utile. Possiamo portare due borracce sulle due tasche laterali e poi all'interno c'è la parte dove inserire la sacca idrica fino a 3 litri con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore. Parlando un attimo di materiali, come vi dicevo questo Deuter è fatto con materiale ripstop, certificato anche bluesign, il che vuol dire che comunque troviamo un materiale veramente buono, di ottima qualità, io questo zaino l'ho stressato parecchio, l'ho strusciato contro rocce, ma soprattutto sono finito in mezzo a tanti tanti rovi che non vi dico e devo dire che ha resistito veramente molto molto bene. La parte che più mi ha stupito sono state le reti, sia quelle laterali che quella posteriore, perché quando si passa in mezzo ai rovi, e ci sono passato per un buon 20 minuti in mezzo ai rovi, queste sono le parti che vanno principalmente a rompersi, ma in questo caso non è nemmeno un buco, quindi dal punto di vista dei materiali direi che questo zaino è sicuramente promosso. Arriviamo dunque alle conclusioni, vi consiglio questo Deuter Air Contact Ultra da 50 più 5 litri, secondo me sì, viene venduto a un prezzo line tra i 190 e i 200 euro, è uno zaino ultra light, come abbiamo visto per comunque 50 litri solo un chilo e due, che volendo può diventare anche un chilo e 50, un chilo e 100 togliendo il cappuccio, e in generale sì, io davvero ve lo consiglio, soprattutto se volete fare dei trekking a lunga percorrenza, in cui magari dovete fare attenzione anche al totale di chili che vi portate dietro, non tralasciando poi naturalmente anche tutta la parte dello schienale della fascia lombare, che per essere uno zaino ergonomico è molto traspirante, la fascia lombare lavora bene, quindi in generale secondo me Deuter su questo zaino ha lavorato veramente molto molto bene. Detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente esotivo anche per questa recensione, io vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!